Parte del sorriso, Villa Domi, la settima edizione, insomma, dopo aver anch'io ricevuto un bel cuore d'oro. La volta scorsa, nell'edizione passata, quindi una serata ricca di emozioni, tanta solidarietà, tante modelle, c'è la gastronomia, c'è l'arte, c'è tutto qua. E poi, soprattutto, siamo in un posto incantevole che è Villa Domi. Vedo imprenditori, attrici, attori, modelle, insomma, siamo veramente... Bella gente, contornato da personalità e anche grandi sorrisi. Allora, Angelo, però ricordiamo che tu sei anche il pulcinello un po' ufficiale, sei un attore, sei un giornalista, sei un conduttore, quindi veramente a 360 gradi. Sì, mi impegno perché nella vita abbiamo questa missione di dare tutto il meglio che il Signore ci ha donato nelle varie arti, quindi io lo faccio con pulcinella, lo faccio quando organizzo qualche evento, lo faccio da giornalista, lo faccio, insomma, lo faccio sempre perché secondo me, ecco, siamo dei fortunati e quindi è giusto che dobbiamo dare alla vita una immagine, ma soprattutto lasciare la testimonianza di quello che abbiamo seminato. Esatto, e poi ricordiamo anche il Regno delle Due Sicilie, il calcio e Amitrano che ha avuto anche da te un bel riconoscimento, non a Villa Domi, ma... Nel cortile Maschiangioino l'amico Massimo Amitrano è stato riconosciuto come ambasciatore del Sorriso per l'attività che svolge con la nazionale Regno delle Due Sicilie, dove ci sarò anche io, prossimamente il 16 abbiamo un amichevole, quindi una bella equipa, anche lui è stato invitato a bere, sarà con noi, quindi... Bene, allora dobbiamo salutare insieme Gran Galà Italia? Allora salutiamo Gran Galà Italia qui da Napoli, da Villa Domi e vi diciamo che adesso, stasera, Napoli è capitale degli eventi di solitarietà culturali in Italia. E soprattutto del Sorriso, la capitale del Sorriso. Sì, perché abbiamo un cuore grande. È vero, ciao. Grazie.